scontatutto expert e risparmi un mare di euro ultrabook asus processore intel core i3 grafica da 2 giga design in alluminio a soli 499 euro scontatutto expert sono in agitazione gli avvocati e magistrati e i sindaci del pinerolese infatti tra due giorni entrerà in vigore la riforma della geografia giudiziaria quella che prevede la soppressione di 30 tribunali e tra questi pinerolo di 220 sedi distaccate e di 680 giudici di pace questa sera gli avvocati scenderanno in piazza alle 19 con un corteo dal palazzo di giustizia fino al comune per una lunga veglia in attesa dell'incontro che il ministro Anna Maria Cancellieri ha fissato domani mattina con i 26 parlamentari che le avevano chiesto una piccola modifica alla riforma ma la protesta non si ferma qui domani mattina gli avvocati si ritroveranno con la toga davanti al comune per incontrare i cittadini e venerdì avvocati e dipendenti ai 50 all'ora percorreranno l'autostrada a pinerolo torino è stato arrestato dai carabinieri di pinerolo un nigeriano di 44 anni yalla mac l'uomo dopo che i carabinieri gli hanno chiesto i documenti con una scusa è uscito dal bar poi si è tolto le ciabatte si è messo a correre per stradale poirino i carabinieri l'hanno inseguito con l'auto e l'hanno fermato da un controllo fatto poi in caserma è risultato che l'uomo doveva scontare una pena di tre anni per rapina aggravata la vittima dell'aggressione era una prostituta nigeriana che in seguito alle botte aveva abortito è stato presentato questa mattina il campionato italiano di tiro con l'arco 3d che si terrà a pinerolo e a prarossino dal 20 al 22 di settembre una manifestazione che rientra nel calendario degli eventi dell'afitarco e che vedrà arrivare nel pinerolese oltre 550 atleti venerdì 20 settembre sarà la giornata di apertura dei giochi con una sfilata per il centro cittadino e le gare di qualificazione è una gara bellissima una gara che si svolge nella natura diceva giustamente prima il sindaco di prarossino non ha impatti di nessun tipo distruttivo sul territorio anzi ha un impatto realmente molto molto bello è un percorso distanze sconosciute per 550 atleti che andando a fare una passeggiata in giro nei boschi e nei prati intravedono delle sagome tridimensionali e tirano le loro frecce su delle sagome di animali in polistirolo è un poliuretano eccetera non è assolutamente un tiro di caccia è un tiro di precisione è un tiro molto molto difficile da fare perché si fa con quattro specialità di archi diversi 550 sono gli atleti iscritti quante persone hanno lavorato per coronare queste cose? ma guardi ci stanno lavorando circa 50-60 persone poi ci saranno anche in più delle altre persone per quanto riguarda la sicurezza dei percorsi qual è la ricaduta economica sul comune di Pinerolo da manifestazioni come questa? da manifestazioni come questa credo che sia quasi non incommisurabile commisurabile sicuramente sì ma molto importante perché ne abbiamo avuto contezza su quello che è già accaduto in alcuni altri aspetti e quindi è chiaro che la ricaduta economica sul territorio sarà di grande grande rilievo è un momento dove le cose come sappiamo sono particolarmente difficili sono un contributo importante anche oltre che allo sport all'amicizia tutto quanto ci unisse anche sotto l'aspetto economico territoriale noi siamo felici e orgogliosi di ospitare questi campionati forse potrei esagerare dicendo che è l'evento più importante non solo di quest'anno ma di tutto il mandato perché occasioni così importanti sul nostro territorio non capitano spesso quindi doppiamente felici e poi soprattutto perché appunto è un evento a impatto ambientale zero che coinvolge i nostri bellissimi boschi che cerchiamo in qualche modo di preservare e fare diventare risorse e quindi un'ottima occasione per sfruttarli in modo sano Grazie. 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 Grazie.